Allora do subito la parola ad Antonio Colavincenzo e Gianfilippo Giannini che ci parleranno del software libero in un data center di calcolo scientifico dato che comunque loro gestiscono il data center della sede dell'Enea di Portici e quindi ci spiegheranno alcune cose interessanti. Ciao ragazzi, io sono Antonio Colavincenzo e vi volevo raccontare una storiella la prima volta che venni a un Linux era il 2004 era in questa stanza e c'era un tizio che col suo computer suonava l'inno alla gioia ultimo movimento della nonna sinfonia di Beethoven però non lo suonava con le casse lo suonava con lo scanner e poi dopo ho appreso che era una feature di test che i driver di Sein per quello scanner avevano questa mentalità però è quella che più profondamente si è radicata in me e magari dopo uno è finito col farsi uno zambaione con un trapano oppure andando sempre più avanti ha cambiato il firmware del proprio router magari ci ha messo di DVRT per ricongiungerci al talk precedente oppure non gli piaceva l'android che aveva sul telefonino ci ha messo una versione più interessante brutata oppure diciamo che offre varie feature è proprio questo il punto secondo me che mi ha guidato nella mia carriera lavorativa cioè il fare molto bene le cose sbagliate nel senso andare oltre quello che ci è consentito fare dal produttore di un hardware o di un software questo vedremo più avanti è stato un approccio fondamentale alla mia vita e al modo in cui utilizziamo il software libero ed è esattamente questo il modo in cui io intendo la libertà nel software libero per iniziare come tutti i lavori per iniziare hanno bisogno secondo me soltanto di una di un'unica feature fondamentale la volontà di fare le cose e quindi in primo luogo c'è stato qualcuno che io ho dovuto mettere ben in grande in questa slide che ha creduto che si potesse fare qualcosa di nuovo e di diverso diciamo a questo mondo Kellion fonda il suo business sull'open source e decide di rompere un vecchio paradigma legato al vendere il software tenta invece di offrire soluzioni più che prodotti e poi c'è l'Enea io come senior consultant e Gianfilippo come esperto più in ambito legato alla virtualizzazione siamo finiti ad amministrare il più grosso data center che c'è in Enea ed è un sistema di infrastruttura per il calcolo scientifico che ai tempi è arrivato al 180esimo posto al mondo nella top 500 di supercalcolatori mondiali voglio essere molto rapido perché l'argomento è nutrito il centro ricerche portici è membro dell'infrastruttura di griglia Enea che copre un svariato numero di data center 7 soltanto per la parte di calcolo scientifico e sono interconnessi come quest'università con la rete del consortium GAR che ci dà fortunatamente ben 3 gigabit di uplink che non sono niente male a portici e l'Unina avrà un link equivalente c'è infatti una backbone con il pop di Roma che si attesta su una dark fiber con 2 gigabit e mezzo di banda passante il pop del GAR sta come voi ben sapete a Monte Sant'Angelo e vado avanti così il centro ricerche portici in particolare ha cresco appunto l'infrastruttura di calcolo su cui noi offriamo il nostro know-how i numeri parlano da soli e sono come vedete 31 rec, 600 host per un totale di 5000 core che oscillano tra i 2,3 gigahertz e i 2,6 gigahertz 10 tera di RAM che sono DDR2 o DDR3 interconnessioni infiniband con rete anzi io dovrei dire fabric con tessuto infiniband DDR e QDR da 20 o 40 gigabit per secondo file system parallelo questo è un software proprietario GPFS sviluppato da IBM per 400 tera bit con velocità di letty IO superiori intorno ai 500 megabyte al secondo superiori ai 400 tendenti ai 500 megabyte al secondo se i codici sono scritti bene tape library sempre un prodotto IBM arriva a 1,3 petabyte ad oggi purtroppo le dolenti note sono che è un oggetto da 400 kilowatt quindi assorbe un paio di strade più 150 kilowatt che sono legati solo al condizionamento ovvero all'energia termica dissipata da queste macchine che diciamo da un punto di vista elettrico non sono altro che delle stufe di fatto e poi cresco diciamo data center con nome discutibile è interconnesso alla griglia Enea tramite diciamo questo suite di scollezioni di software che si chiama Enea Grid che consente l'accesso unificato sia via SSH come noi faremo diciamo interattivamente con Fido sia attraverso sessioni remote basate su NX che è un'implementazione free di un software proprietario che si chiama NX oppure anche diciamo da comodamente da casa perché utilizzando il file system AFS si può diciamo registrarsi alla cella Enea che è un file system geografico utilizzato alle università e dai centri di ricerca a livello mondiale e questi possono in realtà condividere dati diciamo a livello fino a livello nodo ospite quindi direttamente da casa uno può scrivere sulla propria home AFS è una specie di dropbox solo che si ricorda i tardi anni 80 con tutti i pro e tutti i contro della cosa allora quando io sono entrato in questo data center che è una grossa stanza diciamo non era un ambiente accogliente diciamo che la rumorosità nei pressi dei condizionatori è circa un bel cioè sarebbe 1000 decibel e lo fanno? eh vabbè tanto io perdonateci allora la prima cosa che ho fatto in ENE è stato monitorare l'infrastruttura di calcolo avanzato le cose diciamo da fare erano tante perché le macchine sono veramente tante sono veramente tante macchine e soprattutto varie aziende prima della mia avevano fatto pagare varie consulenze prima della mia e non erano riusciti a monitorare diciamo granché la soluzione diciamo più interessante che aveva l'ENE era IBM Director cioè un software proprietario che diciamo aveva una caratteristica fondamentale cioè quella di sdraiare completamente la rete su cui giaceva e quindi diciamo IBM disse vabbè mettete un'altra rete Ethernet dedicata solo al monitoraggio questa cosa diciamo non so se vi è chiaro però mettere 600 prese di rete costano circa vogliamo dire 15.000 euro in termini di switch forse il doppio di questa cifra più i cavi e tutto e le schede talvolta e quindi diciamo IBM quando io entrai in Enea c'era questo IBM Director e ogni tanto veniva qualcuno e lo riavviava qualche ditta esterna intendo dire io iniziai con con Agios che tutti conoscerete senza altro il tool dell'elezione per il monitoraggio delle reti però la la sua diciamo scalabilità non era non era performante per il tipo di infrastruttura e allora misi su questo oggetto che viene sviluppato in Lettonia in Lituania scusatemi si chiama Zabbix e e ne funziona molto bene così bene che il Gar nei suoi lavori annuali ha anche pubblicato la mia esposizione alla conferenza Gar 10 e quindi pur non avendo una laurea o un lavoro pubblicato e questa cosa è una piccola vendetta personale cosa monitora Zabbix monitora esattamente questa entità di oggetti 1336 host per un totale di 8700 oggetti con una diciamo una frequenza di circa 120 oggetti al secondo questa è un'istantanea di ieri sera alle 9 quando ho iniziato a fare queste slide in più garantisce un'infrastruttura distribuita c'è un nodo centrale a portici e due slave nodes a Frascati e a Casaccia Frascati si monitora soprattutto il vino dei castelli e lo fanno a portici Zabbix oltre a ricevere i due server slave che vedete alla destra di questa slide monitora tutta la sala controllo cresco e tutta l'infrastruttura di rete del centro di cerche portici che è un campus diciamo non indifferente in termini di networking ci sono macchine di front end alle quali uno accede sono semplicemente dei server da un paio di unità front end grafici sui quali si accede via NX ovvero via desktop remoto tutta una serie di server di griglia di interconnessioni con le griglie europee di calcolo e poi ci sono diciamo il pezzo forte sono la sezione 1 sezione 2 e sezione 3 sono i nodi di calcolo in particolare sezione 1 fa circa 700 core sezione 2 ne fa 2700 e la sezione 3 ne fa 1500 circa e poi tutta la parte legata all'infrastruttura di rete sia ethernet che infiniband il tutto però in ambiente multivendor cioè le macchine sezione 1 e sezione 2 sono IBM e quindi venivano monitorate con director le macchine sezione 3 non sono altro che nodi diciamo super micro ma abbastanza aggressivi in termini di commercializzazione e quindi sono costate circa la metà della sezione 1 e offrono circa 4 volte i core della sezione 1 frontend e frontend grafici non sono altro che server linux e quindi sono multivendor e quindi anche questi sono monitorabili via Zabbix la sua feature è che è multiprotocollo cioè per gli switch può usare SNMP per linux si possono scrivere degli script dedicati come ho fatto io che è stato questo il mio lavoro fondamentale ma e qui veniamo diciamo alle dolenti note noi monitoriamo anche lo storage AFS che è distribuito su tutto il territorio nazionale appunto dove ci sono i dati utenti lo storage GPFS che vi ricordo ammonta a circa 400 terabyte ad oggi e quindi è un oggetto diciamo anche imponente sul piano dell'occupazione dello spazio un bel rec pieno di dischi la tape library e poi le mie diciamo come dire vittorie personali legate alla storia dello scanner e dell'inno alla gioia un giorno io mi trovavo in sala calcolo e avevo casualmente nelle mani il mio avvitatore elettrico diciamo che è un fedele compagno a un certo punto ci sono questi condizionatori in sala calcolo che sono degli armadi fondamentalmente come un condizionatore da parete solo che pesa 800 kg ok ed è un armadio a due ante dentro non ci sono vestiti ci sono trasformatori e rettificatori che messi tutti insieme diciamo arrivano alla mia altezza aperto la porta e ho visto che c'era un pannello con quattro viti con su scritto non aprire ovviamente diciamo la slide successiva era me davanti a un'elettronica con una RJ45 in bella vista allora io diciamo non è che sono un tipo molto intelligente però diciamo apparentemente però ho pensato che comunque si poteva collegare questa RJ45 a qualcosa ovviamente non l'ho collegata ad uno switch sarebbe stato stupido ho collegata ad una macchina facendo un po' di analisi del traffico provando un po' di reti private visto che sono un numero finito mi sono alzato tutti gli indirizzi tutte le reti private possibili finché non ho trovato la rete privata del chiller fermo restando che quelli lì che li avevano prodotti ci avevano chiesto tipo oltre 30.000 euro per un'infrastruttura di monitoraggio minimale io invece con un cavo di rete mi sono riuscito a tirare via tutti gli organi vitali di questo oggetto cioè la temperatura in ingresso in uscita lo stato dei compressori lo stato dei dry cooler sul tetto la pressione del gas in alta e in bassa pressione sono diventato quasi un tecnico come piace sempre dire a me e quindi diciamo visto che poco prima della mia assunzione c'era stato un grosso guasto del condizionamento che aveva portato la temperatura del data center a salire paurosamente dovete considerare che se l'impianto di condizionamento si spegne il data center che ha una temperatura che oscilla dai 16 ai 30 gradi cioè 16 gradi prima delle macchine 30-38 gradi dietro le macchine la temperatura diciamo media aumenta di un grado al minuto quindi significa che in 10 minuti la temperatura può arrivare anche a 70 gradi 70 gradi diciamo non sono ideali per la vita dell'uomo ma men che mai dei processori e quindi diciamo ci fu un piccolo guasto e la temperatura iniziò a salire e ci furono delle procedure di emergenza prima che venissi io adesso quando c'è un piccolo guasto arriva una mail e le procedure sono automatizzate e quindi c'era la storia dei condizionamenti e poi abbiamo detto ma perché non monitorare anche l'UPS cioè l'oggetto che da corrente linearizza la corrente al centro di calcolo abbiamo fatto la stessa cosa adesso sappiamo esattamente quanto assorbe e cresco e quali sono le sue vulnerabilità elettriche cosa fare quando si abbassa la tensione di linea perché a portici ovviamente non c'è tecnicamente un contatore c'è una cabina di distribuzione su cui arriva la tensione in media tensione cioè 9000 volt e poi da lì viene via via scalata fino a a quote più normali per citare battiato poi gruppo elettrogeno quando manca la tensione diciamo c'è un motore volvo penta diciamo che parte e alterna la corrente fino a 400 kV di potenza e anche questo diciamo c'ha i suoi problemi cioè bisogna monitorare per esempio la benzina come si fa a monitorare la benzina con delle sonde per esempio delle sonde a eco che mandano un raggio sul pelo del fluido cioè della benzina e sul ritorno riescono a capire l'altezza di una colonna e quindi diciamo fatta un'opportuna proporzione la benzina restante il diesel restante diciamo nel serbatoio che è tipo una cosa come 20.000 litri però quando finisce potrebbe suscitare qualche perplessità quindi è opportuno monitorarlo Zabbix diciamo ha questi numeri e sono numeri non indifferenti e tutto funziona diciamo con un unico server una macchina da una unità quindi un server che per noi è fondamentalmente poco più di un fermaporte sul piano scientifico però appunto cioè se qualcuno faceva suonare l'inno alla gioia con uno scanner si può usare un vecchio server e non chiederne 3, 4, 8 come avevano fatto altre altre ditte prima di noi e quindi questa macchina riesce a gestire sola soletta un database che è circa 14 gigabyte tendenti a 20 diciamo nei periodi di vacche grasse con un backup diciamo giornaliero una affidabilità del servizio diciamo a prova insomma by me quindi in un certo senso diciamo abbiamo avuto in tre anni soltanto un down time lungo e due down time dell'ordine delle ore con dei nodi figli in casaccia affrascati dove l'infrastruttura di rete non è così performante come a portici e quindi è più interessante monitorare la parte di rete che la parte di calcolo e ha un approccio multiutente bla 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 è così multiutente che ve lo voglio far vedere ce l'ho il tempo c'ho altri dieci minuti allora non ve lo faccio vedere no mi dispiace vai con la parte di open io volevo risparmiare questa cosa ma non posso terminale che chifo risparmiare 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 si è rotto tutto quello che sto facendo per i meno schillati è un tunnel SSH perché non esco sulla 22? Università degli studi di Napoli vabbè ve lo potrei far vedere magari l'anno prossimo dove eravamo a Open Nebula il mio collega di Oltre Appennino nonché amico carissimo di tutta una vita Gianfilippo vi parlerà di un'altra success story se ci piace usare questi termini discutibili cioè un'altra success story della nostra piccola ma guerritissima azienda in Enea e di come nel giro di un anno elimineremo dalla faccia della terra VMware e rimarremo soltanto con Xen e KVM grazie Antonio io sono sempre Gianfilippo Giannini ci siamo già visti alla presentazione sarò brevissimo perché siamo molto stretti con i tempi, perdonatemi allora, che cosa abbiamo fatto in Enea? ci sono state sottoposte delle necessità cioè per esempio poter generare dei desktop personalizzati per l'utenza di calcolo ci sono state chieste delle macchine di infrastruttura per servizi non troppo pesanti prima del nostro arrivo che cosa si faceva? si trovava un server vuoto si usava una macchina intera per fare un server DNS o piuttosto che per ospitare un server FTP insomma servizi che tranquillamente possono essere virtualizzati quello che abbiamo cercato di fare è stato spingere l'idea di virtualizzazione all'interno di questa istituzione ma ci siamo spinti anche un po' più oltre alla semplice virtualizzazione che è diciamo la strazione di computer tra virgolette diversi computer su una singola macchina quindi NA1 noi ci siamo portati a Cloud Computing che diciamo è la strazione di un diverso numero di computer su un diverso numero di nodi fisici quindi questi nodi queste istanze virtuali potrebbero essere su un nodo può essere migrate trasparentemente su un altro nodo eccetera eccetera quindi stiamo parlando di Cloud Computing che è un insieme di tecnologie e strumenti che permettono di esportare servizi nella rete nel nostro caso che utilizzo se ne fa in generale del Cloud Computing? per esempio per memorizzazione elaborazione dati utilizzo di software particolari per esempio abbiamo una rete di nodi fisici Linux ci serve eseguire un programma che è rilasciato solo per Windows che abita in ambito scientifico anche creiamo una macchina virtuale con Windows solamente per questo utilizzo quali sono i vantaggi per l'utente? abbiamo l'ubiquità di accesso a dati e risorse l'indipendenza dal device fisico quindi dal server fisico effettivo abbiamo un inter... nel nostro caso abbiamo generato un'interfaccia di utilizzo semplice user friendly per l'utente finale in Java e c'è un certo risparmio dicevo di costi dell'hardware perché non dobbiamo più utilizzare un server fisico per fare ogni cosa e risparmio sul software perché utilizziamo software libero nel nostro caso in generale le tipologie di Cloud Computing che si vengono a configurare sul mercato sono tre abbiamo software as a service in cui voi semplicemente accedete pensate a Google Docs per esempio avete praticamente un software erogato come un servizio platform as a service in cui il software singolo si viene a integrare con un altro ecosistema di software paralleli non posso andare ad approfondire per mancanza di tempo infrastructure as a service in cui abbiamo proprio l'utilizzo di hardware da remoto nel nostro caso noi in Enea abbiamo trovato un'architettura più orientata al grid computing in cui ci sono tutti questi nodi fisici che sono interconnessi tra di loro e vengono utilizzati per generare potenza di calcolo nel nostro caso invece il singolo nodo fisico può ospitare anche più istanze virtuali diverse quindi abbiamo una cloud allora all'interno dell'Enea Grid avevamo prima di tutto un'esperienza consolidata che era sulla fruizione di servizi applicativi software sui laboratori virtuali ovvero accesso web ad aumentazione e software specifici di alcune aree tematiche e avevamo un'esperienza consolidata di un file system geograficamente distribuito di cui vi ha accennato Antonio che è Open AFS l'idea è che potete ritrovarvi gli stessi dati un po' ripeto come Dropbox su qualunque macchina o distanza virtuale sia aggiornata a questo dominio Open AFS la nostra nuova esperienza è quella di realizzare delle vere e proprie macchine virtuali non solamente dei servizi distribuiti su questa grid di calcolo scientifico per esempio molto rapidamente abbiamo abbiamo avuto una prima applicazione nella nostra idea di cloud computing con un progetto di elaborazione massiva di dati multimediali e di rendering che dovevamo generare per applicazioni scientifiche la nostra architettura di cloud è stata l'ideale per l'erogazione di questo tipo di servizio che cosa abbiamo provosto dal lato utente un portale web server basato su Linux in cui l'utente poteva uploadare dei file gestire l'elaborazione dei suoi dati sottomessi e gestire i crediti e i pagamenti di questa applicazione stiamo parlando di un'applicazione che aveva anche delle problematiche di billing diciamo di richiedere i pagamenti per i servizi erogati LSF purtroppo non posso andare di nuovo in dettaglio è uno scheduler che sottomette dei job a tutti i nodi della griglia per l'esecuzione quindi possiamo dire per esempio un ricercatore ha bisogno di sottomettere un modello fisico che deve essere elaborato dalla nostra griglia di calcolo scientifico c'è questo scheduler LSF che a seconda dei permissi che gli vengono assegnati delle priorità che gli vengono assegnate gli dà un certo numero di coro per l'esecuzione del suo job quindi attraverso questo scheduler LSF noi possiamo istanziare anche delle macchine virtuali Windows utilizzando KVM che è un demone di virtualizzazione diciamo standard su Linux e possiamo eseguire invece a livello sempre dei nodi fisici dei job di rendering quindi un'architettura mista sia di virtualizzazione e sia di calcolo scientifico la condivisione dei file è possibile grazie ad AFS e poi dato che spesso ci viene richiesto di utilizzare dei software commerciali questi software commerciali hanno bisogno di un certo numero di licenze che devono essere acquistate e ci sono dei server di licenza ai quali queste applicazioni devono andare ad interfacciarsi che cosa abbiamo pensato che utilizzando questa esperienza precedente potevamo generare un vero e proprio servizio di desktop virtuale per l'utente Enea cioè praticamente a questo punto il ricercatore si poteva trovare su qualunque macchina della rete Enea e ottenere il suo desktop virtuale che è su una cloud e lui non interessa dove sta accede semplicemente a questa piattaforma web si apre una schermativa in una schermatina fatta con javascript in ajax e si trova il suo desktop premoto ovunque si trovi web based con i suoi dati con le sue applicazioni configurate come voleva lui c'ha la sua macchina virtuale windows la sua macchina virtuale ubuntu che si trova comodamente anche da casa attraverso l'interfaccia faro che ripeto è un'interfaccia java che è stata sviluppata da Enea che cosa abbiamo pensato di implementare di utilizzare il progetto Open Nebula per realizzare questo tipo di servizio perché è un progetto open source perfetto per costruire sistemi di infrastructure as a service è un progetto che è stato fondato nell'università di Madrid e come potete immaginare essendo software libero poi centinaia di sviluppatori si sono uniti allo sviluppo di questo software e hanno contribuito alla sua evoluzione è un progetto che poi comunque è stato adottato da grossi enti come il CERN come dicevo l'Enea insomma è uno standard a livello europeo per il cloud computing ci sono anche altre piattaforme come per esempio Cloud Stack che è per esempio supportato dalla NASA in questo campo in questo momento non c'è una standardizzazione forte ci sono due o tre prodotti che competono tra di loro per diciamo per il dominio del mercato scusatemi sono salito invece che scendere quindi Open Nebula ci offre una piattaforma di cloud scalabile potente e sicura per gestire queste risorse virtuali è scalabile perché noi a questo punto a questa cloud Open Nebula possiamo aggiungere nodi joinarli a questa architettura e ci troviamo semplicemente altre risorse in più per aggiungere altre macchine virtuali quindi mettiamo un'altra macchina con 16 core con 32 giga di ram abbiamo 16 core e 32 giga di ram in più per erogare queste macchine virtuali mi dicono di andare rapido questi sono i componenti principali di Open Nebula ovvero abbiamo delle api con le quali ci si può interfacciare per richiedere la creazione automatica di una nuova macchina virtuale il nuovo computer tra virgolette abbiamo una certa gestione degli utenti dei gruppi con una certa granularità ovvero possiamo dire che un utente può utilizzare solo un template di macchine windows un altro utente magari può usare solo macchine linux eccetera un sistema di networking che è facilmente personalizzabile tramite l'utilizzo di brigi virtuali abbiamo la gestione di diversi tipi di hypervisor di virtualizzazione che non è solo WVM ma anche Xen o WMware all'interno di Open Nebula diciamo solo hypervisor per spiegarvi meglio l'hypervisor è il programma che effettivamente su quel server fisico genera la macchina virtuale Open Nebula orchestra il comportamento di tutti questi hypervisor sui vari nodi fisici perché abbiamo scelto Open Nebula perché open source per la sua architettura facilmente modificabile per la sua adattabilità e per la sua interoperabilità poi ci sono anche delle funzionalità enterprise però noi in questo momento non abbiamo avuto bisogno di acquistare perché abbiamo potuto rimplementarle noi come tecnici come sviluppatori sempre grazie al fatto che software è libero e quindi open source risparmia di nuovo molto rapidamente che cosa abbiamo fatto per implementare questo tipo di infrastruttura abbiamo installato i nodi fisici installato Open Nebula gli hypervisor abbiamo verificato la compatibilità dei template software che dovevamo utilizzare su questo tipo di piattaforma abbiamo creato queste macchine virtuali Linux e Windows le macchine virtuali Windows join automaticamente a un dominio Windows c'è bisogno ci è stato chiesto gli utenti hanno un loro roaming profile e si ritrovano dovunque si trovino di nuovo i loro dati personali le loro configurazioni quindi diciamo l'utente si può anche generare una ventina di macchine virtuali con un click su tutte queste macchine virtuali accedendo col suo utente del dominio Windows si ritroverà di nuovo tutti quanti i suoi dati e tutte le sue configurazioni quindi immaginate se prima non si sarebbe potuto fare di dare 20 computer in mano a un ricercatore solo perché deve fare 20 prove diverse adesso lui con un click se ne crea 20 e fa tutte le prove di cui ha bisogno magari su una deve installare un software in un certo modo su un altro in un certo altro modo è completamente indipendente Open Nebula è organizzato in un'architettura master slave in cui abbiamo quindi un front end alla quale l'utente richiede i servizi tramite un'interfaccia web piuttosto che utilizzando il client Enea e poi ci sono le macchine diciamo slave che sono quelle che effettivamente erogano la macchina virtuale e la erogano all'utente finale che scelte architetturali abbiamo fatto come hypervisor kvm per accedere ai desktop remoti veri e propri è stato utilizzato vnc per le macchine linux ed rdp per le macchine windows ovvero il comune desktop remoto di windows il management da parte nostra viene fatto o da linea di comando o attraverso il portale web di open ebola la sunstone e networking è fatto tramite bridge virtuali quindi tutte queste macchine virtuali come se fossero tutte attaccate sullo stesso switch di rete immaginate quindi abbiamo uno switch di rete che va sulla rete pubblica su cui magari mettiamo delle macchine virtuali che devono essere su internet devono spiegare per esempio il sito web dell'Enea il sito web di qualcos'altro un server FTP raggiungibile da internet invece abbiamo un altro bridge virtuale su quale vanno le macchine virtuali che devono stare all'interno dell'Enea perché magari le devono utilizzare gli utenti normali quindi non hanno bisogno di essere aggiungibili direttamente da internet anche per una questione di sicurezza che rendete conto come ho già detto utilizziamo ne ho altre dieci il tempo è quasi finito come dicevamo utilizziamo dei bridge virtuali queste sono le procedure che abbiamo messe in pratica ecco qua questa è l'unica cosa che mi tenevo in particolare farvi vedere cioè l'interfaccia faro che è l'interfaccia in java che è stata sviluppata da Enea per l'accesso a tutte le risorse della grid trasparentemente da dove vi troviate se voi siete un ricercatore Enea vi trovate per esempio tutte le macchine virtuali che vi siete generati per fatti vostri gli date un'etichetta per esempio open source development windows 64 e poi c'è anche un'altra interfaccia che è quella open nebula dalla quale è possibile visualizzare l'utilizzo delle risorse quanta cpu stiamo consumando perché io magari come ricercatore non è che posso utilizzare tutte le risorse che voglio mi viene allocata una quota mi viene data tu hai 20 giga di spazio di storage hai 20 cpu usale come preferisci e tu puoi andare a vedere quante di queste risorse stai utilizzando e organizzarti di conseguenza quindi in conclusione noi riteniamo che open nebula è stata una valida scelta open source per il cloud computing e ha un ottimo supporto per qualunque tipo di avervisor personalmente io ero per l'utilizzo di Xen comunque anche le skill le competenze dei altri team componenti del nostro team è stato scelto KVM ha un'ottima GUI di management che è la Sunstone è facilmente customizzabile la prova è il tipo di utilizzo che ne abbiamo fatto noi integrato con una grid di calcolo scientifico una cosa completamente diversa dall'utilizzo che normalmente se ne fa di open nebula è molto popolare negli ambienti di ricerca come vi dicevo è il progetto di riferimento del CERN è un progetto molto attivo e l'ultimissima cosa noi abbiamo generato anche un sistema di login centralizzato di tutti i nodi che sono contenuti all'interno di Cresco ovvero tutte le macchine del nostro cluster generano dei messaggi di log che vengono salvati da un server di log centralizzato che viene controllato monitorato anche per motivi legali perché comunque vi rendete conto che c'è una normativa che obbliga a mantenere per sei mesi almeno il log di accesso a tutte le macchine esposte al pubblico quindi magari anche per una richiesta forse dell'ordine ci potrebbero richiedere che cosa ha fatto quell'utente quel tale giorno alla tale ora noi dobbiamo essere in grado di dare una risposta decisa e abbiamo utilizzato rsyslog che è un'implementazione della standard syslog standard di nubuntu nel nostro caso è stato installato a parte perché utilizzavamo 100 se non nei repository quindi tutti i messaggi di syslog sono inviati dai demoni di rsyslog di ogni sistema trasportati tramite un protocollo processati a un server syslog centralizzato che effettua una serie di filtri perché comunque non abbiamo solo messaggi significativi ci sono anche errori